Lo vuoi capire che gli sconti del Black Friday non servono a nulla? Hai preso paura eh? Gli sconti del Black Friday servono solamente a ritardare l'acquisto da parte del cliente e adesso ti spiego il perché. Quando tu fai degli sconti in dei momenti abbastanza scontati passami il gioco di parole il cliente si aspetta che tu vada a fare questo tipo di offerte e perciò che cosa fa? Ritarda il momento dell'acquisto. Quindi in generale la tecnica dello sconto non è una tecnica che porta grandi frutti. Prima di tutto perché l'ospite si aspetta che lo sconto arrivi in un determinato momento. Secondo motivo perché è percepito di più l'abbassamento di prezzo che non l'aumento. Quindi quando tu poi tenterai di alzare il prezzo nella mente del cliente rimarrà fissato il prezzo dello sconto e per te sarà molto difficile poter alzare un'altra volta. Terzo motivo è che molto spesso l'utilizzo degli sconti soprattutto molto aggressivi pensa agli sconti last minute che si fanno magari perché ci si trova con un'occupazione molto bassa e sono delle terei per il tuo fatturato. È vero raggiungi più alti indici di occupazione però ovviamente ne risente il risultato finale. Quindi quale può essere una strategia invece più corretta? Sicuramente individuare la tua posizione di mercato e fare in modo che il prezzo sia calibrato correttamente in base al tasso di occupazione che vuoi raggiungere all'interno della tua struttura. Questo ti darà inoltre un altro vantaggio. Avere un flusso costante di ospiti ti permetterà di ottimizzare la vendita dei servizi ancillari. Sì perché ci dobbiamo sempre ricordare che gli euri viaggiano insieme alle persone quindi più ospiti, più opportunità per la vendita dei tuoi servizi ancillari. Che ne pensi? Sei d'accordo?